Un'opera fondamentale per il Fondovalle Valdarnese che però è ancora ben lungi dall'essere realizzata. Un silenzio, quello sul secondo ponte dell'Arno a Filine, che ha spinto la sindaca Giulia Mugnai ad inviare una lettera al ministro per le infrastrutture Graziano del Rio e al suo vice Riccardo Nencini per richiedere che il governo inserisca nel piano delle opere strategiche la realizzazione del secondo ponte. Noi avevamo già scritto formalmente alla Regione Toscana per chiedere un interessamento su questa infrastruttura fondamentale e vogliamo dare il segno che non ci arrendiamo e che continuiamo in questa battaglia. Sapete che l'infrastruttura del secondo ponte è stata promessa da molti anni e se ne è dibattuto per tanti anni e non era ancora nata quando se ne parlava già. Purtroppo però non ci sono segnali concreti di proseguire in questa direzione. Le precedenti amministrazioni avevano ottenuto la progettazione preliminare finanziata poi dalla provincia finalmente. Da quel punto in poi non si hanno più notizie di questa infrastruttura. Proprio per questo ci siamo decisi a scrivere nuovamente alla Regione stessa e in particolare al Governo e al Ministro del Rio per chiedere un'attenzione particolare su questa infrastruttura. L'unico ponte che c'è tra Incisa e San Giovanni è quello che collega l'abitato di Figline a Matassino. Questo complica di molto la viabilità sul nostro territorio perché spesso è congestionata e rende difficile il fluire delle auto in molte parti della giornata. Quindi abbiamo bisogno come l'aria e come l'ossigeno di questa infrastruttura. Ad oggi non sono previste risorse pubbliche per continuare oltre la progettazione preliminare e noi stiamo a chiedere proprio al Governo e alla Regione un interessamento specifico per garantire a quest'opera che sia inserita all'interno dell'elenco delle opere strategiche sia a carattere regionale che a carattere nazionale. Ci sono riusciti altri territori. È avvenuto a Montelupo con un finanziamento diretto da parte del Governo. Dobbiamo fare in modo che anche qui possa essere possibile. La Sindaca Mugnai ha fatto recapitare una lettera sul secondo ponte variante riva destra d'Arno anche ai cinque parlamentari di zona per creare una sinergia di intenti affinché Figline Incisa veda finalmente realizzate queste opere strategiche. Noi come Comune faremo la nostra parte. Stiamo ovviamente a disposizione ma da soli non bastiamo. Abbiamo scritto un documento insieme agli altri sindaci del Valdarno Fiorentino e Valdarno Retino per richiedere questa opera. Ora dobbiamo cercare di dare concretezza e trovare le risorse. Questo non significa prendere in giro i cittadini. Sappiamo che domattina non ci si sveglierà col ponte già realizzato quindi dobbiamo anche essere chiari nei confronti ai cittadini ma non arrendersi davanti a quello che purtroppo non si è visto sviluppare in questi mesi. Il secondo ponte sull'Arno non è solo una priorità. È una necessità. Speriamo che qualcosa si muova.